Buongiorno, se serve una mano puoi chiedere eh? No, do solo un'occhiata, grazie A posto? A posto, grazie A vederci Ma i numeri indicano i saldi? No signora, i meno 30, meno 50, meno 60 che vede, è il conto alla rovescia per Capodanno Sente signora, non glielo posso cambiare Dopo 6 mesi, l'hai utilizzato per un mese, l'hai comprato in Germania senza scontrino E non so che attiva io, è la legge Ok Oh, stasera spero di andare via, presto, puntuale alle 8, chiudo che c'è una cena Eh sì, c'è una cena, infatti, non vedo l'ora di chi vedrei Dai, ci sentiamo, un bacio, ciao ciao Mi scusi, sta chiudendo? Due minuti, guarda, da un'occhiata e vado via Prego Pronta? Non sapere se vado aversi No signora, ero qui di passaggio Ah, arrivo Scusi, provo due cose, eh, grazie Me ne provo, eh Grazie, eh, però ci penso Dobbiamo fare l'inventario Va bene, boss Allora, sono due euro e cinquanta Ma lo sconto? Lo sconto di che signora? L'ha preso in saldo, due euro e cinquanta Arrivederci Ma che fai domani? Che faccio domani? A gennaio che faccio? A gennaio ci sono i saldi A febbraio, San Valentino A marzo c'è la nuova collezione Ad aprile, aprile, c'è Pasqua Maggio, giugno ho presaldi Luglio, saldi Agosto, ferie E boh, punto il tracativo Settembre, nuova collezione Ottobre, pre-natalizio Novembre, dicembre, Natale Che faccio? Doviamo dare un'occhiata, no? Arrivederci, grazie Arrivederci, grazie a lei Ma che è tu? Che vero Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti